Due le celebrazioni giubilari nella diocesi di Trapani in programma per domani. Ad Alcamo si terrà il giubileo dell'Associazione Ecclesiale della Terza Età. I fedeli si sono dati appuntamento alle 10 presso la Chiesa del Rosario, da dove partirà la processione che raggiungerà la Chiesa Madre. Quindi il passaggio dalla Porta Santa e la celebrazione eucaristica nel corso della quale tre bambini riceveranno il battesimo. L'Associazione Ecclesiale della Terza Età, fondata da Monsignor Vincenzo Regina, è nata ad Alcamo nel 1986 per valorizzare le risorse della terza età. Nata come centro sociale, divenne poi associazione ecclesiale. E sempre domani, domenica della Divina Misericordia a Valderice, presso il Santuario di Maria Santissima della Misericordia, si terrà il giubileo dell'Alleanza Dives in Misericordia e delle famiglie dell'Associazione Figli in Cielo. Alle 11.30 i partecipanti si ritroveranno presso Piazza Belvedere a Valderice per raggiungere in pellegrinaggio il Santuario, dove alle 12.30 si terrà la messa presieduta dal Vescovo Pietro Maria Fragnelli.